Buonasera. Buonasera. Allora, ci presentiamo? Grazie di essere venuti. Lei è Francesca Michelin, io sono Concita De Gregorio e siamo qui molto felici di ritrovarci davvero. Insomma, questa è una grande... non so per quanti di voi sia la prima volta, ma una delle prime volte che ci ritroviamo in uno spazio in pubblico, in tanti, perché siamo in tanti, e questa cosa non ce la dobbiamo dimenticare, cioè non ci dobbiamo dimenticare dell'importanza e del valore che ha questa cosa qui perché davvero è diverso, no? È diverso esserci... Vabbè, non vi devo spiegare niente, ognuno di noi lo sa. Per cui grazie, grazie Francesca che si muove dal Veneto per fare un viaggio in macchina, noi tutti abbiamo fatto fatica per essere qui, no? È una cosa... E quindi questo segnala il desiderio ed è una cosa bella. Io in realtà sono soprattutto venuta a rispondere alle domande di Francesca, poi gliene vorrei fare anch'io, ma se volete possiamo... possiamo cominciare col... Cominciamo? Cominciamo. Fai anche sentire la tua voce perché sono convinta che molti vogliono sentire anche te. Allora, di nuovo, buonasera a tutti e a tutte. Io sono felicissima questa sera di essere qui con una delle persone che stimo di più, che ha scritto una lettera meravigliosa che si chiama appunto Lettera a una ragazza del futuro, che credo sia un regalo che dovremmo tutti farci e fare proprio quello di leggerlo, perché è qualcosa di estremamente speciale perché di fatto anche il fatto di aver scelto la forma della lettera, no? Che ovviamente è un libro, è un flusso di cose bellissime, ma è incredibile come tu sappia sempre utilizzare delle frasi estremamente precise, acute, ma anche molto delicate e io che sono una ragazza abbastanza giovane, non giovanissima, ma abbastanza giovane, l'ho trovato di grande conforto e credo che sia bellissimo il fatto che una persona, una donna, una donna del futuro possa in qualche modo essere di conforto anche alle generazioni future senza essere paternalistica, no? ma con grande dolcezza e grande gentilezza. Quindi volevo chiederti proprio innanzitutto com'è nata l'idea di scrivere questa lettera. Questa lettera è una lettera che io ho scritto a me stessa, in verità, perché io lavoro per un giornale, nei giornali funziona che, non so se ci vede forse qualcuno, ecco, nei giornali funziona così che le cose vengono commissionate alle sei di sera, quando va bene, a volte anche alle nove o persino alle undici se è un'emergenza, un giorno per un altro. E quindi sono abituata a lavorare con precisione, ma con velocità. E un giorno, una sera, tardi, era successo qualcosa, un fatto di cronaca relativo a una giovane donna, e io a volte faccio, preferisco scrivere di cronaca, cioè raccontare quello che vedo, mi sento, sono una cronista, però alle volte capita, purtroppo più passa il tempo e più capita, perché c'è anche una gerarchia dell'età, per cui fatalmente diventi la più grande in carica, e quindi chiedono dei commenti. Allora, per farla molto breve, Francesca, quello che è successo è che un giorno mi hanno chiesto di scrivere una lettera a una ragazza. E io non ero capace di scrivere una lettera a una ragazza, perché una ragazza, le ragazze come categoria non esistono. Cioè, le categorie non dicono niente di nessuno, non ha senso dire i medici, i cantanti, le bionde, le brune, gli adolescenti, ogni categoria che generalizzi, i giovani, quando sentite dire i giovani viene il sangue alla testa, i giovani, che cosa vuol dire i giovani? Le persone sono sempre una, ogni persona è uno. Poi certo ci sono delle caratteristiche, però io diciamo se mi dicono la categoria le donne, non so, capisco che mi sto inerpicando in un discorso un po' complicato, però ci sono tante donne con cui non ho niente in comune, ma proprio niente in comune, tanti uomini con cui ho tantissimo in comune, ogni volta che mi dicono perché voi, vi capiterà a tutti di sentire dire in qualche contesto voi, io sempre mi guardo intorno e dico ma voi chi? Io sono una. E anche noi, visto che è molto attuale. voi giornalisti, voi bionde, voi donne, voi cosa? Voi io? Io posso? Allora, ho cominciato, questo è un ragionamento che ognuno può applicare su di sé, quando si parla per categorie, le categorie servono in genere soltanto a banalizzare, semplificare, spesso a offendere, spesso sono usate in maniera violenta e non dicono mai niente di vero. E questa cosa che io ho sempre pensato istintivamente, essendo poi anche un po' una specie di lupo solitario, sto sempre da sola, non mi, davvero faccio fatica a sentirmi con i miei colleghi una comunità, perché davvero non, una volta, l'ho capita, una volta per tutto un giorno che ero con mio figlio uno dei miei figli, il piccolo, sulla spiaggia, ero molto stanca, sapete quelle giornate d'estate in cui ero veramente esausta, non finivano mai i giochi da fare e a un certo punto lui avrà avuto 4-5 anni, c'era uno dei bambini che facevano una pista con le biglie, sai quando ti prendi col sedere che fai, gli ho detto dai vai a giocare con i tuoi amici che sono bambini della tua età e lui non andava dai vai a giocare con quei bambini che hanno la tua età la terza volta che glielo ho detto e mi ha detto hanno la mia età ma non sono miei amici e questo è definitivo, no? Cioè tu, i bambini non significa, se tu hai un bambino di 5 anni o di 8 anni o di 10 anni e una bambina gli dici vai con quelli che sono coetane dice ma io non ho niente a che vedere con loro quindi l'idea di scrivere qualcosa per le ragazze mi risultava impossibile anche un po' inutile, un po' patetico, un po' paternalistico, maternalistico io non ho niente da insegnare d'altra parte si procede soltanto per esperienza individuale per errori cioè ognuno di noi chi è che ha mai ascoltato i buoni consigli no? e allora ho detto cosa posso fare per assolvere questo compito essendo però un soldato mi hanno dato una cosa da fare e la faccio ho detto posso scrivere a me stessa cioè alla ragazza non che sono stata attenzione che sono perché noi abbiamo dentro di noi tutte le nostre età a parte che alcuni di noi hanno 20 persone dentro e basta solo andarli a cercare e ci sono ma tutte le età che abbiamo avuto sono tutte lì quindi io ho scritto una cosa come rivolgendomi a me stessa come rivolgendo alla me stessa che in quel momento non aveva gli strumenti perché poi l'esperienza ti serve a capire tante cose che prima non hai e però anche un po' per ricordarmele perché tante delle cose che ho scritto qui me le sono scritte ma ogni tanto le rileggo e dico ma lo sai che è proprio vero ma lo sai che è proprio dovrei proprio fare così perché a volte me lo dimentico cioè sono cose che considero giuste che mi però non sempre sono facili da attuare e quando ho pubblicato una versione di questo scritto è successo che e l'ho pubblicata sul giornale è successo che nei mesi successivi tantissime persone mi hanno risposto ma mi viene da dire molte molte centinaia vorrei dire migliaia alcune mandando dei disegni delle lettere di risposta e ognuna si sentiva come se la lettera l'avessi scritta proprio a lei perché scrivendola a me l'ho scritta a una persona non a tutte ma proprio a una e quindi ognuna adesso infatti smetto di parlare perché vorrei chiederti ognuno ha trovato una parola o un tratto del disegno che lo riguardava e l'intenzione che avevo spero di essere chiara magari poi se c'è qualcosa che non su cui sono troppo astratta ditemelo ma la cosa a cui tenevo moltissimo era rovesciare un luogo comune che è quello della essere forte essere aggressiva vincere la battaglia perché è una guerra perché bisogna andare bisogna combattere bisogna trasformare la fragilità in forza io Francesca penso di no cioè non è che è proprio un obbligo essere degli eroi non mica tutti ci riescono non è che tutti sono capaci di essere appunto epici no di trasformare il loro malessere in una in una in un epica cioè non so vi faccio l'esempio che tutti capite Bebe Vio no Bebe Vio è una persona straordinaria ma è appunto una persona straordinaria fuori dall'ordinario quindi va benissimo averla come ispirazione lei e tutti quelli che da una condizione di debolezza obiettiva di mancanza obiettiva hanno saputo originare la forza ma mica tutti sono capaci di quella cosa lì è una cosa difficilissima da fare allora spingere i ragazzi e le ragazze a dire dai forza combatti fatti valere fai sentire la tua voce sii te stessa ma che vuol dire anche a me quando mi dicono sii te stessa si ho capito ma dammi un'indicazione precisa per esempio no su in un momento di difficoltà a quale a quale pozzo attingere e io penso che ecco se dovessi dire che cos'è che mi ha mosso a scrivere questa lettera è il tema della fare un elogio della gentilezza perché in questo tempo così così violento così veloce dove tutto si consuma in un secondo dove chi alza più la voce vince dove chi è più bravo nella prestazione rapida passa e gli altri rimangono indietro la gentilezza non è affatto una debolezza o una è una caratteristica dell'essere umano che è la soluzione di tanti quesiti la risposta è nel non perdere mai di vista per esempio la persona che hai di fronte quando ti viene voglia di essere aggressivo o violento o di pretendere non perdere di vista che nell'altro ci potrebbe essere una ferita che non si vede c'è quasi sempre in chiunque una ferita che tu non conosci come c'è in me una grande ferita che voi non conoscete quindi la cura l'ascolto e la gentilezza sono un'arma mi viene da dire invincibile perché disarma gli altri li disarma proprio li disarma rispondere con la gentilezza è una cosa che non si aspetta e che ti e che questo si tutti possono fare non serve essere eroici tutti possiamo trovare una nota di gentilezza basta scusatemi perché mi appassiono scusami ma infatti c'è questa parte che vorrei leggere che dice potrai essere irregolare indecente imprevedibile potrai essere infelice a volte e scontare la solitudine se resti quello che sei anche quando qualcuno proverà a farti sentire in colpa e in errore non sarai mai in errore non è una gara non è una lotta non è una guerra la vita e poi c'è questa bellissima immagine di non devi vincere e io ho trovato davvero bello come ci sia questa parola gentilezza si gentile che si ripete più volte in questa in questa lettera proprio perché è un elogio alla alla propria appunto gentilezza che non deve essere una debolezza non deve essere una una fragilità nel senso che io percepisco che viviamo veramente una società super aggressiva super violenta ma anche proprio verbalmente cioè c'è violenza tutti i giorni ma la violenza proprio nasce da c'è la radice di questa violenza spesso è proprio anche nel nostro modo di ascoltare paradossalmente perché non ascoltiamo ci dobbiamo imporre sugli altri non riusciamo proprio a comunicare con loro ed è una società appunto non l'ho definita io l'ha definito qualcun altro proprio una società anche della performance dove tutti devono devono gareggiare esattamente questo esattamente questo e tu sai bene di cosa parli no? perché anche tu sei in un mondo che è così feroce è feroce però è diventato ancora più feroce nel senso che io vabbè faccio la musicista e la musica non dovrebbe essere una competizione anche perché è qualcosa di così astratto di così soggettivo che proviene da qualcosa di estremamente interiore e invece come vedi è tutto competitivo cioè anche l'arte in cui l'arte individuale c'è la sua musica da quella di qualsiasi altro musicista in questa stanza o altrove fuori da qui non ha senso che siano in antagonismo perché sono naturalmente c'è posto naturalmente per tutte le voci per tutte le musiche per tutte le espressioni la nostra stessa voce scrivere è una musica la mia musica io suonavo il pianoforte da ragazza poi quando ho capito che sarei stata veramente scarsa sono passata a un'altra tastiera ma continuo a suonare sulla tastiera quando scrivo suono la voce è musica le parole sono voce quando io scrivo inizio in in levare e poi vado c'è un andamento musicale perché mentre io vi parlo è un suono che vi arriva che esce dal mio corpo e arriva al vostro corpo esce dalla mia bocca e arriva alle vostre orecchie no? è una relazione formidabile di musica ma in che senso se parlo io non dovrebbe parlare lei o non dovrebbe parlare lei in che senso ci deve essere competizione c'è posto per tutte le voci per tutte le voci e la ferocia di questa di questa struttura della società che ha ormai definitivamente scambiato qualsiasi cosa per mercanzia qualcosa che appunto deve avere si deve comprare di più deve funzionare di più ma questo anche nelle noi ormai tutti vediamo i talent non parliamo dei talent musicali ma dei talent di cucina è tutto diventato una gara no? anche fare un gatto di patate o una carbonara è una gara ma che senso ha questa cioè voi capite in una persona che si affaccia alla vita il livello di ansia da prestazione che genera l'idea che tu devi andare in gara in un mondo in cui comunque non c'è posto perché mentre per la mia generazione c'era ancora una coerenza tra quello per cui io avevo studiato e quello che avrei fatto nella vita adesso questa cosa non c'è più per cui i miei figli che sono hanno fra 18 e 25 anni nessuno di loro farà quello per cui hai studiato è sicuro perché non c'è posto non c'è proprio materialmente il lavoro fanno delle altre cose fanno delle cose che non c'entrano niente con i loro desideri allora se tu oltretutto mentre ti prepari ad andare a fare le consegne glovo pensi anche che devi essere più veloce delle altre ma allora me ne sto a casa mia allora capisci che questa risacca depressiva questa risacca di dire ma io che cosa esco a fare se non se non sono performante sì perché se la società diventa estremamente performativa ti fanno pensare che tu non possa mai sbagliare che poi allora ti viene da chiederti allora sbagliare che cosa vuol dire e che cos'è l'errore da che cosa è rappresentato perché succede veramente di sentire anche appunto in mestieri anche come quello del musicista cioè eh ma questo disco l'hai sbagliato ma cosa vuol dire sbagliare un disco cioè che cos'è una prova di matematica e non riesci a capire e anche questa cosa di dover non si può mai anche normalizzare un ipotetico errore invece l'errore fa parte dell'esperienza anzi quello che conta è il percorso quindi nel percorso fai una serie di esperienze ma poi scusa Francesca chi decide cosa è giusto e sbagliato chi lo decide chi è la giuria e poi rispetto a che cosa perché vedi che sempre la parola giusto e sbagliato riportano a una gara no? e rispetto a quale obiettivo è giusto per te ci sono degli artisti che artisti musicisti scrittori persone che hanno cambiato il pensiero che hanno che hanno che non che non hanno avuto successo no? Piero Ciampi adesso non so voglio andare della musica ma dei grandissimi artisti dei grandissimi musicisti Roberto Bolagno Roberto Bolagno è un musicista scusate è uno scrittore che ha cambiato la storia della letteratura mondiale e nella sua intera esistenza ha venduto duemila copie nella vita che voglio dire eppure la storia della letteratura se voi andate cioè la musica ma io non credo che i grandissimi musicisti che sono stati per te di ispirazione o per me che abbiano mai pensato di fare qualcosa secondo i canoni cioè secondo voi i Beatles hanno scritto delle canzoni perché funzionavano secondo me no secondo me hanno scritto quello che hanno voglia di scrivere se voi poi andate a sentire come sono nate yesterday l'avete di recente c'era un articolo che raccontava la genesi di yesterday ma non è così tu hai una cosa da dire e la dici guarda c'è una pagina se posso che parla proprio di questo la paura parla della paura no? e dice va bene tutti abbiamo paura anche questa è una cosa che si impara con i bambini io l'ho imparata con i bambini piccoli non avere paura è una frase senza senso cioè dovrebbe essere proibita bisognerebbe pagare una multa ogni volta che si dice non avere perché che ordine è non avere ma se io ho paura ho paura se mi dici non avere paura non è che smetto no? al massimo mi puoi dire guarda che ho paura anch'io vedrai che passa vediamo come farla passare questa paura ma gli devi dare un posto alla paura perché sennò a quello a cui dici non devi avere paura oltretutto a parte che non gliela fai passare ma lo fai anche sentire in colpa perché è colpevole di non avere coraggio no? questo quando i bambini non vogliono che tu spenga la luce perché non vogliono dormire al buio tanti bambini non vogliono dormire al buio no? perché è spaventoso il sonno cioè cadere nel sonno è una cosa che può essere spaventosa che senso ha dire non devi avere paura clic spengere la luce ma è una crudeltà terribile bisogna dire guarda anch'io ho paura del buio ma vedrai che se ti parlo ti addormenti poi torna la luce allora tutti abbiamo paura no? però a proposito di quello che dicevi ho scritto questa l'immagine bellissima serve la paura è indispensabile per avere coraggio è come serve la fame per sentirsi sazi e serve la sofferenza per provare gioia e poi dice sei un talento e ciascuno ne ha uno onoralo come un dono se anche fosse il talento di amare il talento degli altri onoralo non hai bisogno di essere popolare non conta dove sei nata da chi da dove parti con chi fai l'amore se lo fai conta che tu difenda il tuo posto nel mondo e poi ti dico un segreto se difendi quello che sei puoi persino diventare popolare ma se accadrà sarà per caso come effetto secondario ma intenzionale perché se il tuo obiettivo è quello di diventare popolare farai soltanto cose artefatte magari potrai essere popolare un momento ma non cambierai la storia è solo la tua diversità e la tua originalità perché non starai dando la tua visione del mondo non starai esprimendo la tua unicità ma infatti è proprio questo il punto è come se la nostra società rifiutasse la complessità io ho questa sensazione cioè la complessità e la diversità che ognuno di noi incarna e che rende la società bellissima tra l'altro poi c'è anche una questione poi di spesso anche penso alle minoranze c'è questa frase bellissima purtroppo non ricordo di chi che dice le minoranze creative cambiano il mondo c'è la diversità l'unicità la tua storia che è solo tua cambia il mondo può raccontare qualcosa di diverso se invece ti adatti un po' ti vuoi adattare vuoi avere successo puoi al massimo interpretare una tendenza in quel momento ma non è variato puoi avere un successo effimero il successo dei like il successo della popolarità ma la popolarità è un grandissimo inganno è un grande specchio deformante e questo è molto difficile da dire ma è così perché la reputazione che è quello che si conta avete fatto caso che su Instagram pochissimi pubblicano le foto di se stessi quando stanno male tutti pubblicano delle foto quando stanno wow certo o con un famoso o con una celebrity o con un piatto buonissimo o con un tramonto meraviglioso cioè l'esibizione delle proprie foto serve per dimostrare quanto la tua vita vada al massimo quanto tu stia benissimo quanto tu ma la vita reale non è così ma non è vero cioè proprio ma non è vero e però in questo grandissimo inganno perché si cade se posso dire una cosa che anche qui ho capito abbastanza di recente se l'avessi capita prima tante cose le avrei fatte diversamente perché quella cosa lì misura la tua reputazione cioè tu Francesca posti le tue cose fai i tuoi le tue stories oppure metti la tua musica e misuri la tua popolarità quindi è un reddito reputazionale no la tua reputazione quello che tu vuoi l'immagine che vuoi dare di te arriva ma la tua identità non è la tua reputazione cioè chi sei tu sei te stessa ai tuoi occhi la reputazione è chi sei agli occhi degli altri ma le due cose non coincidono non sono se tu hai una pena segreta o oggi stai malissimo o c'è qualcosa che ti che veramente non mangi o mangi troppo o o o hai una pena d'amore o i tuoi genitori ti hanno insomma le cose della tua vita che davvero toccano la tua sensibilità può succedere che tu le condivida se questo accresce la tua reputazione se accrescere una cosa io ho visto di recente per esempio persone parlare dei disturbi che hanno delle sofferenze che provano ma anche questo è fatto ad uso di un pubblico ed ha la funzione di diventare più popolare presso le persone che stanno male per esempio voglio diventare popolare fra quelli che stanno male quindi dico anch'io sto male e allora tutti diranno oh ti seguo perché stai male ma un ragazzo scusami mi sono addentrata in un discorso complicato ma ci tengo tanto perché vi dicevo all'inizio quanto è importante stare nella relazione dei corpi perché è sempre stato così la reputazione è sempre esistita anche quando io andavo a scuola che non era mille mila anni fa anch'io avevo una reputazione nella classe nella mia nel mio corso di ginnastica o in conservatorio quando facevo il conservatorio ma era una reputazione bilaterale cioè mentre gli altri giudicavano me io giudicavo gli altri no? mentre i compagni di classe si facevano un'idea o i miei compagni del corso di armonia si facevano un'idea su chi fossi io intanto io mi facevo un'idea su chi fossero loro anche adesso mentre voi mi guardate io vi vedo e quindi diciamo io più o meno a spanne sbagliando però so con chi sto parlando ma quando sei su quell'oggetto lì e hai 12 anni il mondo ti vede ma tu mica li vedi quindi tu come fai a piacere a qualcuno che non sai chi sia? ve lo siete mai chiesto questo? provate a essere al giorno zero della vostra popolarità esco su internet vado su internet ma io se volevo piacere a qualcuno nella mia classe nella mia scuola io sapevo il gusto delle persone cioè la mia insegnante di pianoforte sapevo cosa voleva da me e per piacerle facevo quello che lei voleva il ragazzino la ragazzina a cui volevo stare simpatica lo conoscevo e quindi sapevo quali fossero i suoi gusti e in qualche modo mi rendevo interessante i suoi occhi ma se io mi voglio rendere interessante agli occhi di qualcuno che non so chi sia come faccio? l'unica cosa che posso fare è imitare qualcuno che è già popolare come si fa a diventare popolari se non imitando qualcuno che è già popolare quindi facendo le cose giuste quelle che come tu dicevi funzionano ma funzioneranno per qualcun altro ma non è detto che funzionino per te perché magari tu funzioni in un altro modo e se il tuo modo non ti garantisce la popolarità è una paura terribile no? è terrorizzante sì è terrorizzante io sempre imparo dalle risposte fulminanti dei ragazzi quello avrà la mia età ma non è mio amico è vero un giorno ho detto a tavola gentilmente a tavola potete mettere via il telefono a tavola 40 minuti si mangia non è necessario che a tavola stiate col telefono e uno di loro mi ha detto non posso uscire dalla chat in questo momento perché si rovina la mia reputazione se abbandono la chat in questo momento ho detto ho capito stai mangiando scrivi in chat sto mangiando no? eh no ma noi mangiamo a un orario diverso dagli altri cioè non puoi uscire dal flusso ma invece devi invece devi fare quello che ti corrisponde non quello che corrisponde agli altri e questa cosa è io me la dico per me non è che io abbia perfettamente imparato come si fa però questa lettera serve anche a ricordarmela infatti sì c'è questa cosa appunto di difendere la propria diversità e anche appunto questa frase che è abbastanza rapidaria ma fondamentale cioè quello di non far dipendere da nessuno la propria felicità no? perché spesso c'è questa tendenza cioè tu pensi che la tua felicità il tuo stare bene dipenda per forza anche dal far parte no? di una sorta di cerchia di quella chat di quel flusso no? e credo sia cioè proprio fondamentale invece riflettere che su quello veramente che siamo non soltanto su quello che facciamo ogni giorno a che cosa partecipiamo cioè proprio il fatto di dedicarsi del tempo anche per sé infatti è bella anche la cosa che tu dici del rapporto con il proprio corpo qui cioè il fatto come se quasi il corpo fosse un tempio cioè fosse un luogo da preservare da ascoltare costantemente e l'ho apprezzato molto perché è assurdo no? cioè noi ci svegliamo e siamo tutto il giorno con noi stessi ma poi ci dimentichiamo di stare veramente con noi stessi perché dobbiamo far parte di tutto questo flusso che ci continua che ci chiama e anche ci distrae secondo me ogni tanto dalle cose importanti e per tornare proprio al discorso anche del nostro rapporto con questa società estremamente performativa io penso che alla fine il nodo di tutto purtroppo sia proprio l'invidia cioè il nodo è sempre l'invidia quando c'è qualcosa che ti infassidisce c'è sempre sotto l'inagguato l'invidia è proprio il fatto di non poter accettare in qualche modo di abbracciare anche il fatto che appunto questa diversità va difesa sempre e non c'è per forza qualcosa no? a cui a cui dobbiamo sottostare perché anche l'invidia perché anche l'invidia è un sentimento di competizione certo l'invidia è un sentimento che abita nella competizione se non fossimo così convinti che è una gara se fossimo se vivessimo se fossimo educati e e vivessimo in una struttura di comunità dove c'è posto per tutti e ognuno ha il posto per sé e dove la mia voce la tua voce la tua voce non sono in competizione non è che se passo io l'esame tu non lo passi se prendo io la patente tu non la prendi se vado io in a comprare una cosa al supermercato tu non la puoi comprare no? invece invece in tutte le manifestazioni della nostra vita e noi siamo privilegiati perché noi noi una cosa tu la tua io la mia abbiamo già chiaro che la sappiamo fare o che ci piace farla ma questo non è chiaro subito c'è un tempo molto lungo che serve per capire qual è il tuo talento ed è vero che tutti abbiamo un talento tutti abbiamo un talento ma può essere il talento dell'ascolto il talento di prendersi cura degli altri il talento di guardare il talento di vedere il talento di amare le persone che hanno talento per esempio io credo di avere questo più che altro io mi innamoro di mi innamoro dei talenti altrui questa è la cosa che mi ogni volta da capo mi fa sentire mi fa venire voglia di alzarmi dal letto la mattina no? perché troverò qualcuno bravissimo a fare qualcosa ma non a fare in maniera performativa ma magari anche appunto l'ultima persona di cui mi sono innamorata tecnicamente proprio lo amo è uno io mi affaccio apposta è un giovane uomo che tutti i giorni alla stessa ora porta il suo cane nel giardino condominiale gli fa fare dei giri e ci parla io lo vorrei cioè adesso non dico mi vorrei sposare perché non lo so se non lo conosco ma mi sono innamorata del modo con cui questa persona ha cura del suo tempo della sua passeggiata del dialogo col suo cane della cioè il modo in cui sta nel mondo capisci? è bellissimo magari non sa magari non sa fare niente di notevole però guarda come parla col cane io non ho mai visto una persona parlare col cane così certo anche mia madre è così ha un grande talento nel parlare con i cani tutti i cani sono innamorati di lei sì sì lei vedi cioè non abbiamo mai portato i cani da sai come si chiama i dog i dog sitter cioè dagli addestratori perché mia madre riesce proprio a instaurare questo rapporto parla con i cani ma è una cosa che innamora ma è bellissima ma infatti è proprio anche questo c'è il fatto che è noi non dobbiamo pensare che per essere qualcuno nel mondo per avere il nostro posto nel mondo si debba avere un talento supersonico si debba essere incredibili invincibili saper suonare ad occhi bendati una suonata al pianoforte cioè proprio anche nell'avere cura anche nel saper parlare nel saper ascoltare infatti se posso c'è una frase bellissima che è impara a dire grazie e scusa impara che dire grazie vale cento volte dire scusa grazie per avermi aspettato è meglio di scusa al mio ritardo l'ho trovato bellissimo perché noi viviamo in questo anche società che ci dice impara a chiedere scusa devi dire scusa devi chiedere scusa che è vero però la gratitudine è veramente tutto posso dire Francesca una cosa che tanto adesso qua rimane fra noi giusto non è che si divulgano io mi sono anche un po' rotta le scatole di questo fatto che tutti ti dicono vergognati chiedi scusa questa specie di tribunale in servizio permanente per cui di ogni cosa sono tutti pronti a dire vergogna ma vergognati te ma vergognatevi voi intanto la vergogna è una cosa seria e uno si deve vergognare quando davvero ha tradito un patto con un non so con un con se stesso con la coscienza ma questo fatto che tutti dicono vergogna ma ci avete fatto caso che tutti qualunque cosa tu faccia ti dicono devi chiedere scusa un attimo un attimo intanto è giusto naturalmente chiedere scusa quando hai da chiedere scusa no quando hai commesso un errore quando hai fatto un torto ma di nuovo per tornare anche ai bambini chiedere scusa non è che sia il viatico e la soluzione per tutti i problemi perché dopo tre volte scusa non si può chiedere più no l'avrete detto tutti ai vostri figli nipoti bambini dei vicini di pianerottolo non è che tu puoi fare quello che vuoi e poi chiedere scusa una volta chiedi scusa due volte chiedi scusa la terza ci pensi prima no chiedere scusa non è una soluzione diciamo la bolla papale perché questo è un altro grande equivoco possiamo tutti fare quello che vogliamo basta che poi chiediamo scusa no 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 esiste la consapevolezza delle proprie azioni ci si comporta in modo da non doversi scusare piano piano si impara ci si comporta in modo da non doversi vergognare perché se no l'alibi è l'alibi perfetto faccio quello che voglio sempre e poi dopo dico no scusate mi sono sbagliato vergognati va bene mi vergogno e poi lo rifai no non è così e questo passaggio qui del grazie e dello scusa se ci pensate un momento è molto importante nella relazione perché se io ti chiedo scusa di qualcosa mi metto in una condizione di dare e di avere è sempre una cosa mercantile no ti ho fatto aspettare quindi tu hai speso il tuo tempo sentite che anche i verbi sono quelli dei soldi hai speso il tuo tempo ad aspettare inutilmente io sono arrivata in ritardo ma in ritardo no rispetto e quindi ti chiedo scusa come dire che io sono in difetto ho sbagliato mentre invece e l'altro si sente generoso che ha aspettato invece una relazione in cui io ti ringrazio della tua pazienza della tua comprensione grazie per aver capito che c'erano quattro manifestazioni e non era proprio possibile arrivare qua in orario grazie di essere rimasto grazie di aver voluto così tanto stare con me ma la gratitudine è un sentimento che mette tutti sullo stesso piano e siamo no grazie Francesca per voler parlare del mio libro non scusa se non sto parlando della tua musica ma un'altra volta no in un altro momento perché sennò è sempre tutto disuguale non è mai non si può mai stare tranquilli non so se mi riesco a spiegare non si riesce mai a stare in pace è così c'è un verbo che mi è piaciuto tantissimo che è quello del riconoscere e del riconoscersi che è la cosa che tu scrivi essere estremamente importante e credo che davvero conoscere sia importante ma riconoscere forse è ancora più importante ho un po' questa sensazione cioè anche questa cosa che quando ti innamori ti chiedono ma quindi siete molto simili ma quindi vi capite ma quindi vi state conoscendo bene però quando ti innamori c'è proprio che capisci che il tuo cuore proprio si scalda è proprio come dici tu cioè hai voglia di fare spazio nel tuo cuore per qualcun altro non è che ti innamori perché quella persona la conosci più di tanto ma per anzi purtroppo ma perché riconosci ti riconosci o riconosci qualcosa di di bello o comunque in cui cioè in cui stai bene secondo me questa cosa questo verbo è molto molto importante poi mi dici qual è la cosa in cui ti sei riconosciuta di più di questa lettera la cosa in cui ti sei riconosciuta davvero pensaci un momento io volevo dire una cosa sul riconoscersi la cosa più importante della vita secondo me per quello che ho imparato a questa altezza della vita è essere visti davvero da qualcuno cioè essere visti per quello che siamo non l'aspettativa degli altri non la speranza che tu diventi la possibilità che tu sia ma essere accolti visti e accolti e voluti e tenuti per quello che siamo questo è l'amore 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 in tutte le sue articolazioni è ti vedo ti sento ti so perché riconosco cioè conosco due volte conosco me stesso dentro di te e te stesso dentro di me quindi ti riconosco e questo che è un processo gentile è un processo di cura è un è un movimento incessante non è che si vuole bene una volta per tutte a qualcuno non è che qualcuno ci piace una volta per tutte è continuamente così succede continuamente e d'altra parte il desiderio che è il grande imperativo di questa lettera che dice si gentile e poi fai quello che vuoi cioè fai segui il tuo desiderio segui il tuo desiderio di no quando vuoi dire di no si ferma ma senza perdere la tenerezza come dicevano i rivoluzionari i grandi rivoluzionari si gentile ma non remissiva non remissiva la gentilezza non è mica una forma di debolezza è una forza come vi dicevo all'inizio no la pazienza è la più guerresca delle virtù però si dice ah la pazienza è una cosa da femmine guardate le virtù femminili anche buttare buttare il bambino con l'acqua sporica le cosiddette virtù femminili che adesso sembra che siano tutte no da buttare a parte il fatto che dentro ciascuno di noi ci sono uomini donne vecchi bambini quindi tutti conosciamo le virtù maschili e le virtù femminili solo a volerle cercare ma le virtù dell'accoglienza della cura della comprensione dell'attenzione sono quelle che ci rendono umani e buttarle via soprattutto per una ragazza è cadere nella trappola di diciamo andare nel territorio degli altri a competere con quelle altre regole ma io voglio usare le mie una volta piera degli esposti che era una grandissima attrice una donna meravigliosa impazientissima mi disse ci ho messo 80 anni a imparare la pazienza che è la più guerresca delle virtù io che poi figurati no sono impaziente ma chi è più paziente oggi quando il wifi non funziona per 30 secondi cioè questa casa è un inferno viviamo nel medioevo dico ma che cosa è successo non c'è wifi ci sarà un momento di crisi del sistema non so come funziona questo fatto però se non c'è il wifi per due minuti è finita no un attimo pazienza avevo pensato di fare una proposta estremamente impopolare che è quella di chiudere i social alle 10 come i negozi i bar no cioè a un certo punto alle 7 qualcuno chiude alle 8 alle 10 siamo alle 10 no alle 10 chiude mi sembra qualunque qualunque cosa a un certo punto chiude tu vai al ristorante chiude vai al bar a un certo punto cioè sì ce ne sono alcuni che stanno aperti tutta la notte ma sono un'eccezione se devi andare a fare la spesa c'è un orario d'apertura gli uffici cioè perché questa cosa non chiude mai se si chiudesse alle 7 e mezza intanto si riposa si dorme si legge si parla ci si rigenera e poi dopo l'indomani mattina si ricomincia diciamo no a fare a gara però un attimo cioè non si può dire questa cosa perché non si può perdere neanche un istante di quella di quel flusso continuo però pensiamoci anche a questo fatto di è come avere una fuga di gas no è come avere una perdita l'attenzione è sempre anche da un'altra parte sì mentre noi parliamo chissà quante dirette ci sono quante 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 cose stanno succedendo in questo momento eppure un tempo questa cosa non c'era e noi stavamo benissimo lo stesso anzi se vi dovessi dire se vi dovessi dire adesso non voglio fare la passatista per carità ma dico facciamo 12 ore al giorno 18 facciamo 18 ma no però 24 mi sembrano tante no? sì che dici? tu ci saresti a chiudere diciamo da mezzanotte alle 4 4 ore fantastico bellissimo sarebbe io un po' lo sto facendo questa cosa personalmente però sì cioè secondo me sarebbe molto molto bello comunque ho capito qual è la frase in cui mi sono vista di più stavo prendendo tempo no no ma in realtà la stavo cercando no la frase in cui mi sono sentita vista è questa che è bellissima ed è la gentilezza non ha sesso appunto è la qualità fondamentale degli umani alcuni la conservano altri sfortunati la smarriscono ribellati sempre a chi ti dice come essere scegli tu a cosa ribellarti non farti condizionare mai tutto il resto verrà di conseguenza per me è stato veramente bello leggere questa pagina ed è stato anche molto tenero leggere quello sfortunati cioè leggere come alcune persone proprio non riescono a conservarla la gentilezza ma sono delle persone sfortunate cioè bisogna provare quasi pietà veramente una cosa commovente sai quante volte mi succede che le persone che mi urlano addosso io mi distraggo da quello che stavo dicendo e da quello che mi stanno dicendo e penso ma cosa gli sarà successo da piccoli davvero come che cosa qual è il danno che hanno sai quando le persone gli si strozza la vena ti urlano io tante ma tante volte ve lo giuro penso non gli avranno voluto bene saranno stati abbandonati non so come può essere così perdere così tanto la capacità di sorridere cioè gli deve essere successo qualcosa di bruttissimo adesso non faccio nomi però ho in mente tre o quattro no neanche io ho in mente tre o quattro che devono aver avuto dei genitori tremendi una madre cattivissima non so qualcosa di molto brutto per cui hanno perso hanno perso la gentilezza e hanno qualcosa in meno con evidenza perché poi la violenza verbale o l'invidia la competizione è sempre è sempre qualcosa in meno cioè segnala sempre una sconfitta sempre quelli che alzano la voce quelli che alzano le mani quelli che passano avanti hanno avuto un'infanzia difficile questo l'abbiamo chiesto ma hanno sempre in meno la capacità di confrontarsi con le parole di 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 cioè che bisogno c'è di urlare cioè dimmi quello che mi devi dire cioè è una forma di incontinenza per cui ci vorrebbe il pannolone per quelli che urlano no cioè un'incontinenza verbale ci vuole il pannolone scusate è una cosa brutta però è così è un non sei capace di controllarti come mai è una prepotenza che nasconde l'incapacità di di stare sul piano della relazione e quindi questo che tu dicevi adesso sul fatto di ribellati anche a quelli che ti dicono come devi essere che è un po' un controsenso per una lettera no perché in fondo io l'ho scritta ma me la sono scritta per me me la sono scritta per me e mi sono voluta ricordare che non è che per forza dobbiamo sempre essere obbligati a dire come la pensiamo per esempio no anche quelli che ti vogliono sempre costringere a dire allora da che parte stai ti piace o non ti piace perché è un momento in cui c'è una grandissima polarizzazione uno può anche dire non lo so o può anche appunto come stavamo dicendo prima accettare la complessità ci sono tanti modi di vivere una cosa fammici pensare lo devo vedere non lo so o non mi voglio esprimere voglio ascoltare voglio solo ascoltare sei favorevole o contrario a questo boh non so non sono uno scienziato ma neanche lo scienziati come avete visto neanche gli scienziati lo sanno bene esattamente dove si va a parare quindi lo devo sapere io la libertà di dire non lo so fammi ci pensare chi ha ragione e chi ha torto stai con questo stai con quello il ricatto è che se non lo dici cioè se non prendi posizione sei un codardo ah cioè è come se fosse una leva obbligatoria no è come se fosse sempre una gara e qual è il tuo esercito ma io non voglio far parte di voi giocateci voi a questo gioco io non voglio giocare ma infatti io dico spesso a Francesca che lavora con me dico che mi sembra di vivere una vita in cui giochiamo una costante partita di calcio io non voglio fare l'arbitro e nemmeno una delle due squadre non voglio non mi interessa cioè non perché io non mi voglia battere per le cose in cui credo anzi io mi batto eccome per le cose in cui credo però ogni tanto ci sono delle situazioni appunto estremamente complesse e io non voglio assolutamente mettermi a dire quello è uno stronzo dobbiamo essere contro di lui perché anche la persona che posso stimare di meno al mondo non riuscirò mai a trattarla con con maleducazione non riuscirò mai a dire sei una non dico questa parolaccia cioè non ce la faccio non voglio creare non voglio come potrei dire non voglio odiare mai posso non condividere posso assolutamente non voler vivere certe esperienze certe posizioni ma non voglio proprio mettermi in quella e poi la vita fa dei giri magari una una posizione che non condividi oggi fra cinque anni certo mi è successo un sacco di volte ti cambi idea e anche le persone cambiano e comunque nelle posizioni delle persone io sono un po' preoccupata perché c'è un piccolo gruppo qui che ci ha visto soltanto la nuca per tutto il tempo però anche nelle persone a volte si fa si fa del male mi viene da dire ma non è male a volte si si fa qualcosa di sgarbato nei confronti di qualcuno senza accorgersene quando vi dicevo all'inizio c'è sempre nell'altro una ferita no? quante volte vi è capitato che qualcuno ci sia rimasto male di qualcosa che avete fatto e voi non sapete cos'è cioè non sapete che cos'è che avete fatto che ha offeso l'altra persona perché l'altra persona ha un un posto un'ansa della sua sensibilità che magari non è la vostra io per esempio sono una che non risponde tanto al telefono perché non ho un avatar e non ho neanche una segretaria e non ho un clone quindi non so come fare a rispondere al telefono non rispondo semplicemente penso chi mi vuole raggiungere insisterà chi mi ama mi amerà lo stesso chi si offende è una selezione naturale a un certo punto in qualche modo bisogna fare ma ci sono persone che si sono offese così tanto del fatto che io non rispondessi al telefono che per me è una forma di auto cioè di salvezza di sopravvivenza sì è un po' come nella parte in cui dici vai a letto riposati cioè nel senso prenditi del tempo anche per essere stacco prenditi del tempo per te come vi dicevo stacchiamo non essere iperattivo certo e quando tutta la parte sui prendersi cura di sé il corpo è uno la testa è una cioè non è che possiamo essere sempre accesi e il logoramento ecco una delle mie parti preferite è quella dei chiacchiericci perché il pettegolezzo per esempio il rumore di fondo del chiacchiericcio la gente che parla di te sai cosa dicono di te e se ne frega per esempio per dire no non lo so e non lo voglio sapere come faccio a non saperlo però se non stacco perché c'è sempre qualcuno molto gentile e premuroso che ti segnala cosa hanno detto di te no io stacco tante volte dico vabbè adesso basta cioè chiudo non rispondo e c'è sempre qualcuno che ti raggiunge che ti dice sai che hanno scritto una cosa su di te e tu dici però non lo volevo sapere non mi interessa perché poi questa cosa qui ti condiziona quante volte ti è successo di scrivere qualcosa e poi di cancellarlo prima di inviarlo perché il pensiero delle conseguenze di quello che gli altri avrebbero detto di quello che avevi scritto ti impedisce di scrivere quello che pensi ma questa è una cosa cioè ma Einstein se fosse stato preoccupato dell'opinione che avrebbe potuto generare una sua formula su internet ma noi saremmo rovinati ma noi non avremmo capito cioè nessuno che abbia detto qualcosa i cellulari che avete in mano quelli che si fa così che adesso ormai i ragazzi fanno solo così per allargare le immagini perché però ci sono anche quelli in cui le immagini non si allargano prima c'erano quelli di prima poi sono arrivati quelli di dopo quello che ha inventato quella roba lì che si fa così e si allarga l'immagine non è che l'ha fatto perché quello era popolare o perché ha fatto un sondaggio o perché il suo staff gli ha detto bravo che così funziona o perché qualcuno gli ha detto ha fatto una cosa che prima non c'era e quando poi c'è stata ha suscitato il desiderio di quella cosa lì non ha inseguito il desiderio che c'era già ha suscitato un desiderio che non c'era e come ha fatto facendo una cosa che non esisteva e come ha fatto seguendo i consigli di quelli che gli dicevano fai così fai colà tutti i geni fatelo voi allora no? quelli che ti dicono no il libro lo devi scrivere così scrivetelo voi fatelo voi il best seller visto che sapete come si fa se lo devo fare io lasciatemelo fare come penso di poterlo fare io che magari invento l'iPad no? ma se non mi lasciate fare niente che non sia già successo come faccio a fare una cosa diversa? quindi quello che gli altri dicono di te gli altri dicono di te il chiacchiericcio questo rumore no? che può anche un ragazzo piccolo può anche essere rovinato quanta gente è esattamente quello che ti impedisce di pensare una cosa che non sia stata già pensata un verso una parola in una canzone che nessuno ha detto questa parola non si è mai sentita non abbiamo mai fatto canzoni così e quindi è meglio insomma stare più su non tradizionale adesso è una parola che non usa più nessuno però è così perché non cioè io credo davvero ma non lo dico così perché voglio fare retorica io credo che ognuno di noi abbia qualcosa che gli altri non hanno ma questa non deve essere questa cosa del fatto che noi abbiamo qualcosa che gli altri non hanno non deve essere un modo appunto per dividerci per dire ah guarda quella là fa quelle cose io non le faccio quelle cose lì infatti la cosa che mi piace anche di questa lettera è che c'è veramente un invito a essere ribelli ma mai ad essere aggressivi ad essere gentili ma mai ad essere sfigati ad essere persone decise che non vuol dire essere persone che insomma vanno cioè insomma come posso dire che surclassano le altre cioè essere decisi non vuol dire che intanto faccio terreno bruciato intorno a me perché la libertà questa cosa è molto importante che è l'invito finale si libera no? poi si la libertà è un'altra cosa importantissima non è arbitrio cioè la libertà non è fare come ci pare questo è il grande equivoco che adesso però mi sa che la gente non è che la libertà a proposito di quanto si usa la parola libertà io faccio un po' come mi pare sono libero non è questo la libertà la libertà è una scelta che nasce da una responsabilità che tu ti prendi devi avere paura devi avere coraggio devi essere di fronte a a tutte le possibilità che ci sono saperle conoscerle e quando le hai conosciute scegliere quella che è la tua no? ma ogni volta che scegli una cosa ne lasci un'altra in questo senso è sempre è un cammino anche quello no? ma costa tantissima fatica costa tantissima fatica non è lasciami in pace sono libero di non studiare sono libero non voglio andare a scuola sono libero di non studiare ma senza senza io mi ricordo che i miei nonni che erano delle persone semplicissime ai miei genitori e i miei genitori a me ci hanno detto noi vi diamo il sapere è questo il vostro potere il sapere quindi tu sei potente se sai delle cose e la libertà è la libertà di scegliere all'interno del sapere no? sì perché con la cultura ti difendi altrimenti è un po' difficile altrimenti è un po' difficile vabbè staremo parlando da più di un'ora forse non lo so esatto più di un'ora forse quindi Serafina dice sì volete ci sono delle cose che volete chiedere a Francesca o a me? no beh a te più che a me a tutti e due già che ci siamo io sono supporting act oggi quindi no ciao concite Francesca grazie di di queste bellissime parole che condivido devo dire al 99% forse perché in realtà alcune cose alcune riflessioni mi si sono scaturite la prima è portare un po' sul tavolo il tema delle rivendicazioni delle minoranze di cui avete accennato un qualcosa perché si sente sempre dire bisogna lottare per i propri diritti cioè il tema della lotta è un tema molto forte molto comune soprattutto se se fai parte di una minoranza o se credi davvero in qualcosa e ho pensato al fatto che molto spesso certi diritti non sono mai stati ottenuti purtroppo con la gentilezza ma con degli atti di anche di violenza perché necessario a volte volevo chiedervi che cosa ne pensate in questo caso cioè io credo che elogiare la gentilezza elogiare tutto quello che voi avete detto sia imprescindibile soprattutto nell'educare un bambino una bambina giovane però credo anche che ci sia poi un momento in cui questo stride perché davvero credo che per esempio la comunità LGBT non sarebbe dove ora se non fosse stato scagliato un mattone a Stonewall volevo chiedere un po' che cosa ne pensate di questo guardi io te lo dico in due parole questo il mio modo di fare le mie battaglie e ne ho fatte tante ti assicuro sono state è sempre stato questo di vivere come se il mondo fosse già un mondo giusto cioè vivere la mia minorità la mia differenza io sono stata una donna quando fare quel mestiere ho diretto un giornale quando le donne non dirigevano tutto questo non mi interessa difendere la mia posizione in un mondo che non mi corrisponde perché è una battaglia che da sola non posso fare e che la comunità certo ci sono delle comunità molto coese la comunità LGBT è una comunità molto coesa tantissima gente molto forte ma non tutte le comunità sono così ci sono delle comunità meno coese più competitive al loro interno dove fare una battaglia è molto difficile il mio modo di fare una battaglia è sempre stato quello di pensare che il mondo era già giusto è già come lo voglio e quindi io mi comporto così perché se io mi comporto come vorrei che il mondo fosse guarda credimi fidati le persone fanno molta fatica a essere orribili se tu non lo sei fanno molta fatica a essere prepotenti se tu non lo sei certo può succedere ma alla lunga ogni volta che qualcuno ti offende se tu gli dici e adesso e ora ti senti meglio cioè per me è sempre stato un modo di disarmare l'altro che ha funzionato per me ha funzionato cioè nella mia esperienza individuale questo non significa che le grandi battaglie collettive non abbiano una funzione storica e ce l'hanno questo non significa che se c'è una lotta da fare tutti insieme per esempio secondo me adesso tutti ci dovremmo alzare insieme e dire ok questo che sta succedendo è il confine fra la Polonia e la Bielorussia deve finire ora cioè non domani mattina adesso l'Europa l'America Israele l'India non lo so tutti insieme si alzano in piedi e dicono avete rotto no? non si può fare questa cosa qui che sia un dittatore che sia un altro dittatore non si possono usare le persone però non vedo questo fatto non vedo l'indignazione mondiale di fronte a questo e allora mi domando come si combattono davvero le grandi battaglie se non vivendo in un altro modo vivendo già in un altro modo cioè io posso andare domani mattina e fare io qualcosa perché non a parte delle eccezioni di delle comunità molto forti nella maggior parte dei casi io l'arma che ho conosciuto è quella della incarnare io il cambiamento esserlo io esserlo già e ti dirò una cosa per esempio sul DDL Zanne sulla legge sui diritti io adesso vengo dalla Spagna sono stata fino a ieri in Spagna dove il campo di diritti delle persone sono mille volte più avanti quello è il mio paese io sono per metà spagnola tutta questa ne parlavo ieri a un dibattito cioè tutta questa questione perché è neofragata quella legge vabbè perché siamo un paese di merda questo vabbè diciamo a parte le macro categorie ma perché tecnicamente non poteva essere approvata da questo Parlamento perché troppo specifico il dettaglio di ogni piccola cosa che deve essere normale per cui è spaventosissima quella e basterebbe dire una cosa molto semplice che ciascuno nel rispetto del diritto degli altri deve poter fare quello che vuole del suo corpo e della sua identità cioè il il macro tema è è limpido nessuno ti può dire di no nessuno ti può dire di no rispetto a questo no io della sensazione che ho di me faccio quello che voglio dell'uso del mio corpo faccio quello che voglio dell'idea che ho di me sono padrone basta non è che devi specificare fare tutte classe A classe B classe C perché questo in un paese di merda come questo genera una terrore e le cose sono molto più semplici questa è un'altra spesso le cose complesse sono molto semplici da dire quella della libertà individuale rispetto al fine vita alla fecondazione eterologa all'uso che si fa del del proprio corpo alla sensazione che si ha di sé è semplicissimo è semplicissimo nel rispetto della libertà degli altri io sono libero di fare quello che voglio basta basta non c'è tanto da dire è questo io capisco molto la tua domanda perché è una cosa che io personalmente mi sono chiesta spesso anche pensando appunto le battaglie del passato anche che sono successe nel nostro paese io sono nata a Bassano del Grappa che è medaglia d'oro alla resistenza contro la lotta nazifascista poi penso adesso a che città è e mi chiedo forse ci siamo dimenticati che lotta hanno fatto i nostri nonni io credo che però questa lettera voglia riflettere su quanto sia importante il rapporto che abbiamo con noi stessi il rispetto che dobbiamo avere di noi stessi e dei nostri ideali e noi dobbiamo essere cioè unirci ed essere contro quella violenza cioè la violenza di fatto è un'energia qualcosa che si propaga e tu puoi decidere di usarla in tanti modi e io credo che la forza proprio delle battaglie che stiamo facendo anche per i diritti di tutti e di tutte e di tutte è proprio il fatto che noi dobbiamo veramente concentrarci io ad esempio insisto molto sul linguaggio cioè per me oltre al fatto insomma che tutti dicono ah che palle questa cosa dello scioac che palle che volete insomma ma ma perché dicono così perché è una società eteronormativa di gente privilegiata che ha sempre deciso per per gli altri no e quindi noi dobbiamo batterci io la voglio chiamare con una rivoluzione gentile ma non perché è una rivoluzione di pappa molle è perché noi dobbiamo con il linguaggio combattere tutti i giorni noi dobbiamo esprimerci attraverso i social che sono uno strumento fondamentale con gentilezza e rispetto ma noi dobbiamo non mollare mai un centimetro ma senza dopo tirare un sasso in testa a qualcuno assolutamente farlo non dobbiamo abbassarci cioè non è che dobbiamo per forza evangelizzare capito o reclutare gli altri o denigrare quelli che non fanno come noi farlo 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 tu usa tu e adesso questa cosa dello schwa io vengo la famiglia di mio padre è napoletana è napoletano lo schwa cioè si usa sempre i dialetti che sono una lingua sapienziale quando io non mi sono mai sentita né maschio né femmina mi hanno sempre chiamato con lo schwa fino da quando ero piccola in napoletano in pugliese in siciliano cioè i dialetti perché noi non abbiamo il neutro non abbiamo più il neutro ma nei dialetti nella lingua cioè Mario Desiati ha scritto un libro bellissimo che si chiama Spatriate Spatriate che si dice in pugliese no? non è né spatriato né spatriata è spatriate uno che è andato fuori casa quanti quanti dialetti finiscono senza la vocale? quasi tutti allora io sono d'accordo che il linguaggio costruisce la realtà le parole sono case dove noi andiamo ad abitare e io decido cosa fare lo faccio a volte non lo faccio altre volte però quello che non posso fare è essere normativo nei confronti degli altri cioè pretendere che tutti facciano così questo è violento scusate vi dico una cosa che così chiudiamo perché questa è veramente divisiva la questione del vaccino va bene io non voglio sapere niente però dico io faccio io ho fatto la mia scelta ok? rispetto la scelta di chiunque altro ma quello che non posso sopportare anche nella mia dimensione domestica nelle persone che frequento negli amici dei miei figli nei miei amici è quelli che mi vogliono spiegare che devo fare come loro cioè è capito è sempre questo questo reclutamento obbligatorio fai tu hai preso la tua decisione ok io voglio scrivere così scrivo così incarno ho anche la responsabilità di essere un modello se ce l'ho no? incarno un cambiamento ma mica vi posso dire a tutti quando uscite da qua adesso per favore se nessuno se tutti non usate la schwa al posto della A o della E siete dei codardi ma farete un po' come vi pare all'interno della vostra coscienza credo no? cioè scusatemi ma questa cosa è molto importante perché tornando ai ragazzi cioè nessuno può dire a nessun altro come deve fare tutto al più gli puoi dare gli strumenti per capirlo da solo gli puoi dare gli strumenti perché uno possa informarsi e poi decidere come fare ma non te lo devo dire io come devi fare ti posso dire guarda leggi questa cosa leggi questa guarda questo film senti questa musica vai a cammina lungo questa strada e poi ti fai la tua idea e io la rispetto la tua idea ma che io ti dica si fa così cioè o sei capito? cioè ti devo riconoscere un'autorità ti devo riconoscere un'autorità indiscussa e neanche perché poi ai maestri ci si ribellano in generale è sano ribellarsi ma è quello infatti c'è di mettere anche in discussione le varie opinioni ma per farlo bisogna avere coscienza della complessità delle opinioni dei modi di essere secondo me questa sarebbe già una gran cosa cioè quando le persone ti dicono ci sono problemi più importanti hai rotto le scatole con il prezzo degli assorbenti ci sono cose più importanti no è che bisogna convivere con la complessità dei problemi e delle cose che sono importanti per tante minoranze che poi alla fine minoranze non sono questo secondo me è fondamentale chi ti dice hai rotto le scatole cioè voglio dire si può anche accomodare all'uscita certo cioè non è obbligato cioè esiste cioè io anche quelli che passano il loro tempo a dirti cosa devi o non devi fare ma perché non si occupano di qualcos'altro cioè guardate che hanno un sacco di tempo libero cioè se non ti piace quello che scrivo quello che canto quello che dico ma vai a sentire chi ti piace cioè fai perché devi impiegare il tuo tempo per dirmi che non ti piace quello che sto facendo ma non lo trovate assurdo no guardate che è una perversione cioè io quelli che non mi piacciono ma neanche li conosco cioè non è che sto nei loro canali per dirgli non mi piace nemmeno oggi quello che hai detto cioè sto con chi mi piace o con chi mi interessa o con chi non conosco e poi deciderò se mi piace o non mi piace capite che è una malattia mentale questa della 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 criticare continuamente c'è il famoso tribunale permanente no si si cambia canale c'è spazio per tutti vedi un'altra cosa senti un'altra musica grazie 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 Francesca del tuo tempo no grazie grazie di cuore concita credo sia stato appunto un momento prezioso no e io invito veramente tutti a leggere questo questa lettera e solo una cosa un particolare che io ho apprezzato molto il fatto che sulla copertina no ci sia questa ragazza che soffia appunto questo soffione no che è un'immagine estremamente delicata e tu pensi no che quando soffi dopo praticamente non rimane più niente ed è tutto tra l'altro è morto e invece no perché stai spargendo delle cose belle e quindi credo che questa lettera sono tutti i semi no sì le illustrazioni sono di Maria Chiara Di Giorgio che è una illustratrice meravigliosa che voglio ringraziare tantissimo perché ha reso poesia luce vento ogni parola anche le parole che lei scrive nella sua calligrafia sono parole della lettera quindi anche spesso le cose che sembrano complicate sono molto semplici o anche fai in modo di non aver bisogno delle persone che hanno potere perché solo così sarai libera insomma fai in modo di non far dipendere la tua felicità da una persona sola o da nessuno possibilmente mai da uno e sono tutte lei ha messo in grafica queste parole e questa cosa dei semi che dicevi Francesca che i semi fioriscono mi fa venire in mente un altro modo che ho sempre trovato bellissimo di dire quando ti seppelliscono di fango provano a coprirti di terra o di schifezza se sei un seme pensano di ucciderti ma in realtà fiorirai quindi i semi e poi fioriscono in modo imprevedibile perché appunto in ognuno fioriscono in un modo diverso in ciascuno in un modo diverso va bene grazie grazie ragazzi grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti